Rieccomi di nuovo, nonostante le maledizioni di qualcuno, allora vi stavo dicendo, è fatta per Defrel alla Roma, domani raggiungerà la capitale per le visite mediche, la firma e poi partirà per gli Stati Uniti, se non erro la Roma negli Stati Uniti. Proseguo, pregate nel frattempo, che non salti, Genova è vicinissima a Thomas Rodriguez, un profilo interessante, poi vi do una notizia della Lazio che mi ha colpito, io consiglio, non sarebbe male alla Lazio, perché secondo me è un ottimo difensore, farebbe comodo a tante squadre, sto parlando di Casares, è stato proposto ai Bianco Celesti, pare che la Lazio ci stia facendo un pensierino serio e direi che se lo riesce a prendere è un bel colpo. Proseguo con il Benevento, in arrivo Cataldi, ve l'avevo detto qualche giorno fa, si stava provando a chiudere la trattativa per il giocatore, ormai si può dire ex Lazio, ecco si è chiusa e raggiungerà la squadra in ritiro. Proseguo con la Juve, stasera parlerò un sacco della Juve, perché sapete ci sono state tante notizie. E in arrivo De Sciglio è atterrato oggi alla Malpensa, passerà da Milano per raccogliere le ultime cose a Milanello e poi domani dovrebbe, anzi levo, dovrebbe, svolgerà le visite mediche al J Medical, la clinica medica appunto della Juventus. Proseguo con il Napoli, è vicinissimo il rinnovo di Reina, oggi c'è stato il procuratore a Trento, si è incontrato con i vertici del Napoli e sostanzialmente si concluderà positivamente. Proseguo con l'Ella Saverona, non parlo di Cassano perché si commenta da solo, io sapete sono abbastanza onesta, è un bischeraccio, anzi forse gli faccio un complimento a definirlo bischeraccio. Va bene, è in arrivo il portiere Silvestri dall'Izz, quindi completa il reparto portieri. Proseguo con, rimaniamo sempre a Verona, Spondachievo, è ufficiale, io tento di dirlo, lo sapete che i nomi stranieri sono, mi piace leggerli piano perché non vorrei sbagliare. E' ufficiale Iaroski Rischi, sicuramente sarà mezzo polacco, mezzo ropa, non lo conosco, mi fido degli amici veronesi. Proseguo col Torino, è ufficiale Berenguer, è battuta la concorrenza del Napoli, ottimo colpo. E parlo del Milan, ecco un'altra squadra di cui parlerò stasera un sacco, oltre che la Juventus. Il Milan ha questo discorso aperto sugli attaccanti, ora ne parlerò. Uno che sostanzialmente tramonta, non dico quasi definitivamente, è Aubameyang, perché il Borussia Dortmund l'ha tolto dal mercato. Il DS della squadra tedesca ha detto che il giocatore non è assolutamente in vendita, né tantomeno intende cederlo. Quindi sostanzialmente, come vi dirò più avanti, le scelte saranno fra Morata, che però a me piace non illudere i tifosi. Io, ripeto, non ho nessun tornaconto rispetto a tanta stampa che ci mangia sopra. Morata, a parte che, poi ve lo dirò più avanti ed è un'esclusiva appunto del blog, il Milan ha un budget per l'attaccante di 60-65 milioni, per Morata ne servono almeno 90. Quindi è un affare, io difficilmente credo che il Real Madrid abbassi le pretese. Per quanto la volontà del giocatore è di lasciare il Real Madrid, perché è chiuso nel club madrileno. Però a me non piace illudere i tifosi, addirittura Morata è molto più facile che vada a giocare in Premier. Si parla di due squadre fondamentalmente, che sono il Manchester United e soprattutto il Chelsea di Conte, perché pare che Conte stia forzando un po' la mano con lui. Io non l'ho letto su Quotidiani Italiani, sono andata direttamente su due Quotidiani Spagnoli, quindi ho preso le fonti, diciamo, di casa. Lecito, sono il mondo deportivo e il Marca, dove appunto non si accenna nemmeno al Milan. Purtroppo noi, ripeto, abbiamo questo vizio in Italia di ricamarci un po' sopra, però si rischia sempre di illudere i tifosi e a me dispiace, perché sono tifosa pure io. Non vi dirò mai la squadra, ma non mi piace a me deludere i tifosi. Quindi la scelta sarà, io credo, fra Belotti e Kalinic. Questi due saranno. Non credo ad alcune ipotesi che leggevo adesso, dell'ultima ora, col fatto di Schick, che poi ne parleremo. e non credo, Schick credo che debba risolvere dei seri problemi. Figlioli, non è un'infiammazione al cuore. Fra l'altro io mi informerò, merito, non credo esista un'infiammazione del cuore. Ecco. Comunque la prognosi era di 40-45 giorni. La Juventus sappiamo che inizia la stagione fra meno di un mese. Ma il discorso che credo sia saltata la trattativa è che probabilmente Marotta ha chiesto uno sconto. Perché è chiaro, se il giocatore è, fra virgolette, malato, non vale i soldi che io ti ho dato. Forse ne vale un po' di meno. Ecco, credo che sia saltato lì il sistema. A meno che non ci sia qualche cosa che bolla in pentola. Ripeto, però il problema di Schick è serio. Io smetterei di ironizzare e dire ah, la Juventus non è una società seria. No, la Juventus è una società seria. Perché poi, se il giocatore muore in campo o gli piglia qualche cosa, ci lamentiamo poi e diciamo ah, si poteva fare di più. Allora, il ragazzo ha problemi. Non gli pregiudicheranno la carriera, ma ha problemi. L'hanno detto in tutte le salse. Giustamente la Juventus si è voluta tutelare. La Juventus comunque ha bisogno di giocatori pronti. Cioè, non scherziamo. Quindi non credo che il Milan si inserisca su Schick. Non credo proprio. Credo che si focalizzerà su Belotti e Kalinic. Uno dei due. Morata, almeno che nel frattempo il Milan non formalizzi qualche cessione. Ad esempio quella di Bacca. Ecco, allora là aumenterebbe il budget. Che però, ripeto, è di 60-65 milioni adesso. Per Morata ne servono almeno 90. Proseguo. Parlo della Juventus, tanto per rimanere in tema. Oggi sono state le visite mediche di Scesni. Detto anche codice fiscale. Per noi italiani che abbiamo difficoltà a pronunciarlo, chiederò ripetizione di polacco. No, a parte gli scherzi. Si attende solo l'ufficialità. È il futuro numero uno della Juventus. Perché, ripeto, quest'anno sarà, ahimè, l'ultimo anno, credo proprio, di Buffon fra i pali della Juventus. Proseguo col Barcellona. Vi avevo lasciato ieri sera con quella notizia shock che il Paris Saint Germain aveva formulato un'offerta di 220 milioni di euro per Neymar. Ecco, il Barcellona ha ufficialmente tolto dal mercato, ma non c'è mai stato Neymar. è ufficiale la Padula, quindi vi sto dicendo le ufficialità. È ufficiale il rinnovo di Borriello. Ha firmato un contratto fino al 2019. È ufficiale anche l'acquisto di Lucas Leiva dal Liverpool alla Lazio. È in arrivo al Benevento Chisna sempre dalla Lazio. Poi vi do un'altra ufficialità. È ufficiale Art in prestito alla West Ham dal Manchester City. Un'altra ufficialità. Stasera è piena di ufficialità. Procedo perché non so fino a quando resterò in linea visto le malanove, le maledizioni che mi mandano stasera. Il Palermo è ufficiale Gnauré. Questo è un bel giocatore. Poi vi darò una news sul Palermo in uscita che mi ha colpito. Proseguo con la Fiorentina. Oggi sono state effettuate le visite mediche per Zecchinini. Addio Nini come lo chiamo io. No, scherzo. E poi vabbè io seguo la scaletta perché io per correttezza anche perché non è che mi posso ricordare tutto seguo una scaletta. Ripeto, è saltato chic. E io ci tengo a dire non ha un'infiammazione al cuore. Non esiste che mi risulta a me un'infiammazione al cuore. Io guardando anche alcuni Sisi sia Sponda Sampdoria sia Sponda Juventus io poi chiederò a gente un poco più competente magari a qualche medico informazioni ma si tratta di un affaticamento al cuore che costringerà il ragazzo comunque a fermarsi 40-45 giorni quindi questa è la sostanziale io credo che Marotta anche perché ripeto ragazzi la Juventus ha necessità di avere giocatori pronti perché piazza non è disponibile ancora va bene dice c'hai Di Bala però che fai ti prendi un giocatore molti hanno paragonato la questione di Steiner ma l'Isteiner era già tesserato della Juventus l'Isteiner l'ha scoperto dopo ecco qui il discorso è diverso la Juventus lo stava per pagare a Schick che magari ora con il fatto che non arrivi Schick la Juventus possa prendere qualche giocatore e che è anche vero e certo avendo più soldi è chiaro io credo che a questo punto la trattativa per Bernardeschi alla luce anche del fatto che è saltato Schick si possa chiudere perché ora il denaro ce n'è ancora di più io vi dirò di più io a questo punto non lo so se comprerà un attaccante la Juventus sono onesta e sincera io credo che il primo obiettivo sia il centrocampista poi ripeto sono supposizione al momento proseguo con il Nizza è ufficiale Jalè dal Paris Saint Germain questo è un ottimo colpo del Nizza proseguo con la Sampdoria è vicinissimo l'accordo e l'arrivo di Meree restano da definire gli ultimi dettagli sul contratto ve l'ho già anticipata non ve la ripeto il punto l'esclusiva diciamo del blog su il Milan e ve l'ho già detto io vi do ve la riepilogo un attimino per chi si è messi in onda ora io ve li do in ordine di probabilità di arrivo allora il budget ripeto per l'attaccante salvo partenze improvvise di Niang o Bacca che potrebbero fruttare altri soldi il Milan come budget attaccante a 60 65 milioni di euro Morata ne chiede il Real Madrid ne chiede almeno 90 il Borussia ha chiuso definitivamente ogni possibilità per Obama e Young quindi io lo terrei proprio fuori Belotti è una situazione che insieme a quella di Kalinic io vedo un po' più probabile anche se non è facile perché il Milan sostanzialmente offrirebbe la cifra che vi ho detto io 60 65 più per aumentare diciamo il valore arrivare ai famosi 80 milioni perché alcuni amici del Toro mi chiedevano la clausola recissoria sul contratto di Belotti di 100 milioni vale solo per l'estero in Italia non vale comunque chiede sempre 80 milioni l'unico è stato fatto sostanzialmente verrà fatta una proposta a Cairo di fare 60 65 milioni cioè la cifra che vogliono investire più due contropartite per il Torino che nel caso specifico sono Paletta e Niang però Cairo vuole cash vuole soldi non sembra molto convinto di di questa trattativa io credo che alla fine arrivi Kalinic a parte perché è un separato in casa perché la Fiorentina non so quanto possa ancora dargli permessi su permessi sarebbe una presa per i fondelli onestamente qualcuno mi ha chiesto se a questo punto la Juventus si può inserire per Kalinic a me non risulta però è chiaro bisogna vedere un attimino ora come andrà a finire la questione io ho miei dubbi che a Firenze gli danno due giocatori io conoscendo l'ambiente ho miei dubbi già è un miracolo se va Bernardeschi perché la rivalità c'è non ci nascondiamo è inutile io sono nata da quelle parti quindi conosco l'ambiente mi sembra un po' difficile poi è chiaro la volontà del giocatore io credo che alla fine Kalinic andrà al Milan perché è l'offerta che costa anche di meno a livello monetario e comunque non è un giocatore da buttare via non scherziamo perché sostanzialmente per gli amici del Milan la Fiorentina chiede 30 milioni di euro quindi praticamente rimarrebbero anche soldi al Milan per investire chiaro su altri rinforzi quindi io vi darei Belotti Kalinic Morata non mi piace illudere su Morata io non sono una giornalista e quindi non ci guadagno nulla a aumentare visualizzazione eccetera eccetera quindi io non vi illudo perché sarebbe illudere dire 90 milioni in Milan attualmente non ce li ha considerando che Morata chiede almeno 10 milioni di ingaggio sarebbe il giocatore più pagato della Serie A e poi ripeto il Milan rischierebbe anche questo lo sanno anche Fassone e Mirabelli rischierebbe che alla prossima sessione di mercato non possono farlo perché sostanzialmente verrebbe fuori il fair play finanziario quindi non sono cretini alla fine voglio dire per quanto devono rinforzare la squadra io vi ho dato questa scaletta in esclusiva perché ho letto tante di quelle stronzate in giro lo sapete fra l'altro non siamo più nemmeno in orario protetto quindi posso dire anche qualche parolaccia è chiaro che anche la Fiorentina su Kalinic non è che può aspettare all'infinito o vai o rimani questo mi sembra di essere stata chiara proseguo con la spalla ed è vicinissimo Grassi dal Napoli che anche nello scorso campionato ha giocato nell'Atalanta proseguo con la Carrarese e vi do un'ufficialità di un ex giocatore dell'Empoli del Benevento se non sbaglio del Siena e sto parlando di Ciccio Tavano io ancora non credevo ma io credevo avesse smesso sono onesta comunque buona fortuna almeno lui si è dimostrato più corretto di di Maccarone lo sapete io non le mando a dire Benevento proseguo il Benevento è ufficiale d'Alessandro dall'Atalanta poi vi do una notizia appunto presa dal sia dal Marca e dal mondo deportivo e anche poi ho verificato sul Daily Mail quindi su Sun anche Conte sta insistendo appunto per Morata lo sapete l'ho allenato alla Juventus e sta insistendo perché lo rivorrebbe a Londra ecco poi lo sappiamo il Chelsea ha una quantità economica cioè noi italiane ma ce le sogniamo sti soldi per quanto però quindi Morata potrebbe finire in Premier la Juventus prosegue la Juventus si lavora per Matic del Chelsea quindi rimaniamo un po' smentisco che è stato chiesto Alex Sandro questi sono pettegolezzi italiani l'aveva chiesto a inizio mercato ma la Juventus gli ha risposto picche si potrebbe chiudere ora Matic considerando anche il fatto che la Juventus ora ha più disponibilità economica io starei attento attenta soprattutto per quanto riguarda pista Matic Bernardeschi perché ripeto ora la Juventus ha più disponibilità economica avendo rinunciato a Schick quindi può chiudere ha più soldi non che prima non le avesse però può concludere prima proseguo con il Monaco però in realtà parlo anche del Palermo a breve quindi nei prossimi giorni se non anche nelle prossime ore la squadra monegasca dovrebbe fare un'offerta di 4 milioni più bonus per l'ofaso del Palermo sapete che il suo giocatore si era interessato anche Milan Inter anche la Juventus devo dire la verità però in maniera abbastanza defilata quindi potrebbe anche lasciare la Sicilia il giocatore proseguo col Sassuolo e domani arriverà Cassata non la Cassata Siciliana è buona fra l'altro vabbè abbiamo parlato di Palermo ecco volevo rimanere in tema fra l'altro è buona vi consiglio di mangiare no vabbè è ufficiale Cassata sarà praticamente ufficiale domani a Sassuolo resta da definire alcuni dettagli domani comunque con la Juventus perché il Sassuolo lo vorrebbe a titolo definitivo però la Juventus vorrebbe tenersi il diciamo la prelazione mantenendo il diritto di recompra cioè se il giocatore diciamo rende sbanca la Juventus se lo può riprendere probabilmente andrà a finire così anche perché Sassuolo e Juventus ci sono ottimi rapporti parlo del Fenerbace quindi andiamo a Istanbul in realtà parlo anche del Cagliari domani sarà appunto a Istanbul Isla che lascia il Cagliari poi vi do una notizia del Nantes quindi andiamo in Francia Tata Rusano sarà molto probabilmente il prossimo portiere di Ranieri io ho letto dei commenti felicissimi a Firenze se lo dice ce lo siamo levati dai ci io non le ripeto però sì probabilmente lascerà a Firenze finisco con il Napoli e vi do vi parlo del del portiere allora vi avevo parlato di Carnesis è vicinissimo probabilmente la trattativa si farà però c'è stato un rallentamento proprio stasera perché sostanzialmente questo il Napoli lo prenderebbe con un prestito con diritto di riscatto mentre i friulani lo vogliono cedere a titolo definitivo ora in settimana ci sarà un nuovo incontro quindi si cercherà la quadra sostanzialmente quindi o la va o la spacca filtra ottimismo quindi l'affare si dovrebbe fare io ora vedo se ci sono news vi ringrazio un attimo solo ok e allora vediamo se ci sono news così ho messaggi vostri parlavamo di Conte è ufficiale il rinnovo di Conte al Celsi ha firmato altri due anni di contratto una notizia per l'Inter il Valencia sta provando a prendere Condogbia a breve dovrebbe fare un'offerta ok ora parto con con le vostre domande Francesco cosa ne pensi delle parole di Marotta i campioni passano la società rimane beh ha detto una verità i giocatori passano la società rimane cioè io non mi piace commentare che vi posso dire è chiaro che credo che con Bonucci sia successo qualche cosa di grosso ora noi non lo sapremo mai come è andata a finire si racconta tante storielline ma non si sa poi ora riporto il commento di Luca sempre su Cassano dice ma che ne pensi fra l'altro è tifoso Luca è tifoso del Verona ma sostanza io ve lo dico senza no niente contro Cassano ci mancherebbe altro io però mi aspettavo che da un 35enne padre un minimo di maturità l'avesse acquisita eh io leggo ero a riposarmi leggo una news Cassano si ritira boh ho detto io boh avrà avrà fatto qualche io l'ho pensato scusate la parola che sto per dire ho detto io avrà fatto qualche attra stronzata ti aspetti solo questo poi dopo un po' vabbè mi accendi il computer e vedo dice ci ha ripensato dicendo poi pare ci sia stato alcuni problemi insomma è intervenuta la mia sensazione non voglio essere maligno né voglio dire secondo me ha voluto attirare anche un po' l'attenzione mediatica su di sé perché diciamo che è un campione però di cervello non è mai stato una cima ecco ripeto poi non lo so è chiaro a livello tecnico Luca credo che il tuo Verona ha preso un giocatore se sta bene può far bene è chiaro che è un'incognita sia per l'età per la testa per il fisico che ha io se non ci sono altre news e chiuderei vi invito all'articolo che seguirà dopo la chiusura del mio video vi auguro una serena notte e meno male avete pregato per me che sono riuscita a fare il video nonostante le maledizioni o meglio dette qua a reggio malanove che qualcuno che io so nome e codice fiscale mi avevano mandato qualche tempo prima io vi saluto e vi auguro una serena notte a reggio a reggio a reggio